Pronto? Pronto? Buonasera, il signor Messina? Sì. Vi è riconoscerla, la contatto dal servizio commerciale della Eni Luce Gas. Grazie, l'ho chiamato pure ieri sera. Ho avuto modo di valutare il tutto, signor Antonino, di fare un piccolo confronto, vedere effettivamente se con noi poteva risparmiare. Ma io non pago luce, non pago nulla, sono attaccato al palo della corrente, quindi sono la casa popolare. Quindi ovviamente risparmio. Se vuoi... Eh, voglio dire, qua c'è così a Catania, non so l'era dove chiamano. Non so l'era dove chiamano. Io da Milano. A Milano le pagate le bollette? Sì, anche a Catania dovreste. Eh, insomma, è facoltativa la cosa. Eh, mi fa piacere che a voi che vi fanno questo particolare sconto, insomma, perché per Catania non funziona. No, ma se lei dice una cosa sua ha un palo, può provare ad attaccarti, è facile alla fine, non è complicata la cosa. È da vent'anni che lo faccio, quindi è molto conveniente, meglio di Eni, luce, eccetera, eccetera. Oh no, credo anch'io, questo senz'altro. Va bene, la ringrazio. Un giorno avrò bisogno in caso la contatto. Come no, come no, non ti preoccupi, salve. La ringrazio, una buona serata. Sì, è pronto. Sì, è pronto.